Inaugurata la Biblioteca della Regione Piemonte, la mostra La Croce Rossa 150 anni di servizio, aperta al pubblico fino al 26 novembre, con foto d'epoca, uniformi, strumenti chirurgici da campo della prima metà del Novecento e prestidi medici d'emergenza. In occasione della sua apertura si è tenuta la prima delle cinque conferenze dedicate ai 150 anni dell'organizzazione, che si svolgeranno tutti i mercoledì pomeriggio. Ultimo appuntamento il 19 novembre. La logica della raccolta, quella che ci ha un po' permesso di raccogliere degli oggetti, era quello appunto di fare un po' memoria di quello che abbiamo, di quella che è stata la nostra storia. In questa storia abbiamo alcuni elementi che sono anche interessanti. I registri dove noi leggiamo la storia di tutti i nostri iscritti e nella fattispecie quello che riguarda la parte militare, i nostri arruolati. Poi abbiamo oggetti dal casco coloniale delle campagne d'Africa alla giubba blu precedente alla Prima Guerra Mondiale, agli oggetti legati sia alla gestione dell'emergenza, sia nella Prima che nella Seconda Guerra Mondiale.